Presentiamo oggi la 26esima edizione del Festival Ecos. Ecos è un viaggio musicale attraverso il patrimonio storico, artistico, culturale, architettonico e anche paesaggistico della provincia di Alessandria. Un festival ormai affermato, l'anno scorso abbiamo realizzato la 25esima edizione. Rilanciamo ancora una volta con un programma ricchissimo di 23 concerti che si svolgeranno dal 27 di aprile, sabato prossimo, con la partenza al Teatro Municipale di Casale Monferrato fino al 23 di giugno con il concerto di chiusura, la tenuta cannone di Carpeneto. In mezzo tantissime opportunità, tantissimi bellissimi concerti, sono 23 i concerti di quest'anno che toccheranno tutta la provincia, come di consueto, e che porteranno nel nostro territorio artisti meravigliosi e giovani talenti. Quindi credo che sia un viaggio che vale davvero la pena di fare, per chi ama la musica e anche per chi ama scoprire un patrimonio artistico che non sempre è così conosciuto. Quindi vi invitiamo a seguire il nostro percorso, a seguire le tappe di questo viaggio. Tutte le informazioni le trovate sul sito www.festivalecos.ch.it e vi aspettiamo ben... insomma, speriamo di vedervi ai nostri concerti a partire da sabato 27 aprile.